Permettetemi di dire solo due parole perché questo incontro conclude non solo i seminari di quest'anno ma un ciclo di seminari che è durato sei anni in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio del progetto Scienze e Società. Sono stati realizzati 30 seminari in tutto, cui hanno partecipato all'incirca 2.800 persone, 30 seminari e tre eventi speciali, Scienze Teatro, Scienze Cinema e così via. Quest'anno concludiamo, siamo senz'altro commossi da vedere questa partecipazione particolarmente intensa con il tema Musica e Matematica ed è con grande piacere che vi presento i nostri ospiti, Pier Giorgio Di Freddi, matematico e saggista, Francesca Aste, pianista, compositrice, Pier Giorgio Di Freddi, tra l'altro è appena uscito Una via di fuga, il grande racconto della geometria moderna che è il secondo volume giusto? Sulla geometria ondadori. Bene, senz'altro indugio, allora io do subito la parola a loro. Allora, buonasera non sapevo di essere, di partecipare a un funerale diciamo così, comunque sono 30 gli eventi, esattamente tante quante le variazioni Goldberg di cui parleremo in seguito e un po' si sente? Naturalmente è sempre sciocco fare queste domande e altrettanto sciocco rispondere perché queste domande sono fatte per coloro che non sentono e che quindi non possono dire no, non sentiamo. Comunque, stasera come avete visto c'è già stata una parte multimediale, è un po' imbarazzante per me partecipare appunto a una serata in cui ci sono tre parti, la più divertente l'abbiamo già vista, poi ci sarà la parte musicale e io devo fare la terza però, quindi abbiate pazienza e sopportate anche questa parte qua. Dunque, stasera parleremo di matematica e musica, naturalmente in una maniera estremamente superficiale perché sono legami spesso tirati per i capelli, però può essere divertente andare a scavare diciamo così in ambiti che non sono proprio quelli più strettamente scientifici e meno che mai matematici, cercando di tirarci fuori di qualche cosa di sensato e io penso che molti di voi siano venuti qui appunto, siete tanti con l'idea di vado proprio a vedere che cosa mi dicono, quale siano questi legami tra la matematica e la musica perché, direte voi, siamo sicuri che non ce ne sono. Invece speriamo tutti e due di convincervi che questi legami non solo ci sono ma possono anche essere abbastanza profondi, naturalmente non tutta la musica è matematica e non tutta la matematica è musica nemmeno, però ci sono delle aree di sovrapposizione non soltanto tra la matematica e la musica ma col resto delle arti, se avessi detto matematica e pittura probabilmente molti di voi sarebbero stati meno sorpresi io credo perché perlomeno la prospettiva di cui tutti hanno sentito parlare anche se questi sono tempi in cui parlare di prospettive naturalmente può essere azzardato ma intendevo la prospettiva matematica ovviamente e qualche cosa che tutti conosciamo sono ormai cinque secoli anzi anche più dal 1416 esattamente quindi sono sei secoli che la prospettiva ha invaso la produzione diciamo di tutti gli artisti e in realtà il novecento ha cercato di liberarsi da questi legami tra la matematica e la pittura che erano ormai diventati anche costrittivi, era obbligatorio disegnare in un certo modo seguendo per l'appunto le regole che molti di voi avranno imparato anche a scuola, disegno soprattutto quelli che hanno fatto architettura e così via. Invece i legami tra la matematica e la musica sono forse meno noti, sono un po' più nascosti e allora proprio per questo che abbiamo deciso di fare. Io come vedete sto mettendo l'occhio sullo spartito perché dovendo giocare in due, anzi suonare in due perlomeno in maniera metaforica ma volevo seguire quello che abbiamo fatto. Il modo più semplice per introdurre ai legami tra la matematica e la musica, a parte quello di parlare di musicisti che sono matematici o matematici che sono musicisti, quello potrebbe essere un filone che si potrebbe benissimo seguire. Per esempio, tanto per fare alcuni nomi che qualcuno di voi avrà sentito nominare, nel Novecento ci sono parecchi, ci sono stati parecchi musicisti laureati in matematica, forse il più famoso direttore d'orchestra evidente che è Pierre Boulez ha una laurea in matematica. Uno dei più noti musicisti, non so se si possono ancora chiamare classici perché ormai questa denominazione ha forse perduto un po' di senso, ma comunque moltissimi di voi hanno sentito sue musiche soprattutto perché nelle colonne sonore di molti film, a partire da Truman Show oppure da Kundung eccetera, ci sono le sue musiche, sto parlando di Philip Glass, di cui poi tra l'altro sentiremo anche qualche cosa questa sera. Philip Glass è un altro musicista che è laureato in matematica e poi gli esempi potrebbero naturalmente estendersi. Pollini per esempio, che forse è il nostro pianista più noto, non ha studiato matematica però ha studiato fisica, si è scritta fisica, quindi c'è un interesse, diciamo così, da parte dei musicisti per la matematica. È un interesse che risale molto in là nel tempo e ne parleremo tra un momento, ma per iniziare appunto questo discorso, dicevo, vi vorrei far vedere, forse non serve perché intanto poi da lontano non si vedrebbe, ma vedete sul pianoforte ci sono molti spartiti aperti, se questi spartiti sono di musica contemporanea allora vabbè assomigliano più alle opere di pittura di cui parlavo prima che non agli spartiti classici, cioè gli spartiti moderni ci sono delle righe colorate, ci sono delle macchie sopra, eccetera, ma molto difficili da leggere. Mentre invece i spartiti classici hanno tutti delle righe, come voi sapete, il pentagramma, e agli inizi di ogni riga, ed è qui che appunto mi interessava arrivare, agli inizi di ogni riga c'è una frazione. Ora vi direte, ma come? Sì, c'è una frazione e le frazioni ovviamente appartengono di diritto al campo della matematica. Che cosa servono queste frazioni? Qual è l'uso che delle frazioni viene fatto nella musica? Le frazioni servono, essendo matematica, non sono qualcosa di astratto che poi si può applicare nei campi più diversi della vita quotidiana. Quando si applicano la musica si applicano ovviamente riferiti alle note. Cosa significa per esempio avere agli inizi di una riga, di uno spartito, una frazione come tre quarti, che è una tra l'altro delle frazioni più usate insieme a due quarti e quattro quarti eccetera, chissà perché i quarti sono così amati dai musicisti, magari questo ce lo potrà poi dire al nostro pianista. Ebbene, quei due quarti, tre quarti, quattro quarti stanno a indicare semplicemente che in ogni battuta ci sono appunto delle musiche che hanno quella durata, cioè due note per esempio da un quarto, oppure tre note da un quarto, oppure quattro note da un quarto. E naturalmente non solo quelle frazioni si possono usare, si possono usare, adesso per esempio la pianista ci farà sentire una musica in 81 sessantaquattresimi per esempio, senza saperlo, no? Naturalmente sto scherzando però magari se hai voglia di farci sentire qualche musichetta con le frazioni che preferisci perché intanto praticamente tutte le musiche classiche hanno le loro frazioni corrispondenti e sentiamo quindi in musica, no? Cosa significano tre quarti, quattro quarti, due quarti, quello che vuole. È percepibile per noi per l'accentazione, noi lo capiamo subito, ora chiedo se si tratta di tre quarti perché... Due quarti... Quindi è un ritmo binario o un ritmo fermato. però ci sono anche compositori che si divertono a mescolare questi numeri, non tanto forse per un gioco numerico ma per un gioco acustico, per un effetto di accenti. Si sarebbe da distinguere forse sì tra i musicisti che lo fanno anche per un piacere e una speculazione numerica e quindi un ragionamento logico-matematico e quindi che fanno nella speculazione numerica matematica una ragione compositiva e invece magari i musicisti che non sono interessati a questo tipo di ragionamento e fondano tutto il loro comporre, l'euro-rugenta poetica, che invece sono sul risultato acustico. E' spesso le due cose che si mescolano. benissimo. Quindi abbiamo cominciato a capire che effettivamente le frazioni, che quindi appartengono alla matematica, poi però possono essere prestate o donate alla musica per individuare dei ritmi. Ora cosa si fa con le frazioni normalmente quando le si usano a scuola? Beh, ci sono delle operazioni ovvie che si possono fare con le frazioni. Per esempio ce n'è una che tutti abbiamo imparato alle scuole elementari, che molti hanno dimenticato, naturalmente, che si chiama semplificazione, oppure riduzione ai minimi termini. Prendete per esempio una frazione come 6 ottavi. Beh, 6 ottavi al numeratore e al denominatore che 8, lo dico per coloro che si sono dimenticati queste cose, hanno tutti e due i fattori comuni. Tutti e due questi numeri, 6 e 8, si possono diventare per due. E allora 6 ottavi vi insegnano a scuola che si può semplificare e farlo diventare tre quarti. Ora la cosa, ecco, adesso sentiremo in effetti, cosa succede quando una musica che è scritta in 6 ottavi viene suonata in 3 quarti, che dal punto di vista musicale dovrebbe essere esattamente la stessa cosa. Oppure una musica in 3 quarti viene suonata in 6 ottavi. Beh, dal punto di vista musicale, questo è interessante perché cambiano ovviamente gli accenti, le note rimangono uguali, ma suonano diversamente. Chi di voi ha avuto la fortuna o la sfortuna, a seconda di come riuscite a farlo, di andare a scuola di musica, si sarà accorto che a volte questo procedimento di suonare cose che sono scritte in una frazione, cioè con un certo ritmo, suonarle in una frazione che è equivalente dal punto di vista numerico, ma non dal punto di vista musicale, è una cosa che succede, io ho suonato per tanti anni senza nessun successo il pianoforte, ricordo che lo raccontava Francesca prima, che quando suonavo agli inizi le sonatine di Clemente, un giorno sono arrivato con tutta questa bella sonatina preparata, il maestro me l'ha fatta suonare e poi mi ha detto sì, le note sono giuste, ma guarda che quello non era il tempo. E in effetti succedono queste cose. Succedono talmente di norma che i musicisti addirittura hanno dato un nome a questa operazione di semplificazione delle frazioni, eliminazione dei fattori comuni e un nome strano che si scrive Emiola con l'H davanti e si pronuncia Emiola o Emiola e che comunque viene usato parecchio nella musica. Allora adesso la sentiamo con i suoni invece che con le parole. Ho scelto un frammento da una sonata di Mozart che gioca molto con i numeri per, mi si sente sufficientemente, che gioca molto con i numeri per un'esigenza musicale, per un'esigenza musicale di abbellimento e di varietà del tessuto compositivo e della musica, per renderla più varia. Ecco. Un esempio di Emiola da un tre quarti. Emiola passa dal tre, dalla scansione uno, due, tre al due. Quindi un, 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 un. Quindi non è tre più tre, è sempre sei, tre più tre. Ma fare tre più tre in musica, fare due più due più due e poi cambia gli accenti. I musicisti giocano. E poi va avanti. Quindi questo era un po' l'esempio dell'Emiola. Oltre alla semplificazione delle frazioni, cos'altro sappiamo fare? Dipende da voi naturalmente, no? Perché qui forse siamo già andati oltre quello che ci si ricorda delle frazioni dalle elementari o dalle medie. Ma c'è una cosa che ci ha tormentati tutti e che continua a tormentarci ancora oggi, ed è quando si prendono frazioni diverse e si cercano di metterle insieme, no? Di fare delle somme, no? Per esempio. E non lo so, tanto per dire, non so, fare un tre quarti e adesso lo dico come frazione, no? Non credo che si usino molto i due terzi, per esempio, no? Nella, nella musica, no? Ma come si fa a sommare tre quarti e due terzi? Sono cose diverse, no? Perché in un caso si tratta appunto di un certo numero di quarti, no? E nell'altro caso un certo numero di terzi. C'è un'operazione, no? che si chiama semplicemente riduzione a denominatore comune, no? Ora queste cose i musicisti le fanno spesso, no? Perché devono cercare di combinare dei ritmi che sono diversi tra di loro e metterli insieme. C'è un esempio molto famoso che citiamo soltanto a parole perché è un esempio orchestrale, no? Quindi i pianisti sono tutti limitati, no? Avendo soltanto due mani, no? Tra l'altro quindi non possono farne molto. Ma molti di voi hanno sentito per esempio quest'opera di Mozart che si chiama, tra l'altro Mozart è già stato citato, lui è uno, tra l'altro non sembrerebbe perché uno si aspetterebbe molto di più di legami, le faremo anche quelli, legami, esempi di contatti tra musica e matematica, i musicisti di altre estrazioni, per esempio estrazioni barocca, primo fra tutti Bach naturalmente, no? E quelli lì ovviamente ci sono. Ma anche i musicisti diversi, no? Appunto, no? pre-romantici come Mozart o anche nei romantici ad esempio come Chopin, si trovano moltissime di queste cose. E dicevo c'è quest'opera di Mozart che si chiama Don Giovanni, in cui alla fine del primo atto c'è questa grande scena del ballo. E succedono delle cose strane in questa scena perché anzitutto è molto moderna nel senso che c'è l'orchestra che suona ovviamente e che sta dove deve stare l'orchestra, ma sul palcoscenico ad un certo punto arriva un'orchestrina. E Mozart addirittura ha scritto la partitura per far vedere che questa orchestrina sale, arriva in scena in realtà, non è che sale sul palcoscenico, ma arriva in scena e incomincia ad accordare gli strumenti, no? E nella partitura ci sono le accordature e così via e poi cominciano a suonare i musicisti. I musicisti suonano un minuetto in tre quarti, che è il ritmo che abbiamo sentito prima, e due dei protagonisti, uomini e donne, incominciano a ballare insieme, su questo ritmo di tre quarti. Dopo un po', mentre loro stanno ballando, arriva un'altra orchestrina sul palcoscenico, pure questa corda i suoi strumenti, e poi incomincia invece a suonare, una contraddanza, in due quarti questa volta. Fin qui ancora non c'è molto problema, no? Perché i denominatori sono comuni. Però c'è un problema di tipo diverso che adesso sentiremo, no? Perché mettere insieme tre quarti e mettere insieme due quarti significa, sì è vero suonare sempre con delle note che hanno lunghezza un quarto, ma in un caso appunto suonarne tre. E nello stesso tempo in cui una di queste orchestrate suona tre, quell'altra ne suona solo due, no? E naturalmente si tratta di metterle insieme queste cose, no? E finisco solo il discorso e poi faremo un esempio appunto di questo genere di cose, ma la storia non è finita perché, come vi ricorderete, nel Don Giovanni in realtà ci sono tre coppie di tre uomini e tre donne, no? Protagonisti. Quindi arriva una terza orchestrina addirittura, no? Che sale sul palcoscenico, accorda gli strumenti e questa volta suona una danza tedesca, una le manda in tre ottavi, no? E allora ecco che è cambiato anche il denominatore, benché tra quattro e otto non sia una grande differenza, no? Però pur sempre, no? È diverso, no? E suona questa terza danza. E il risultato è un risultato straordinario perché sul palcoscenico alla fine ci sono tre orchestrine, tre coppie di danzatori, di ballerini, come li chiama la partitura, diciamo, no? E tutti e tre stanno ballando e suonando delle musiche diverse che venivano coordinate tutte insieme. Questo è un processo tipicamente matematico che richiede appunto un controllo totale, no? Di quello che sta succedendo e tra l'altro, visto che abbiamo citato prima Bulesi, ho avuto la fortuna di incontrarlo, no? E gli ho chiesto appunto, no? Ho visto che lui è un direttore dell'orchestra, dico ma come si riesce a mettere tutta questa roba insieme, no? Perché si tratta di contare sempre, no? E lui mi ha detto molto esplicitamente, dice in genere si bara, no? E invece di suonare i tre ottavi come se fosse veramente così, non lo si fa come se fossero semplicemente delle terzine, no? Questo detto, no? Appunto da uno dei più grandi direttori dell'orchestra, perché è una cosa molto complicata. Ma sentiamo allora un esempio, no? Di come si mettono insieme queste cose, no? Gli era chiamata appunto poliritmia, più ritmi messi insieme. E soprattutto questo processo di usare in un caso tre note, nell'altro caso due, è un processo generalizzato, si chiama battere tre contro due o due contro tre, no? Che viene usato moltissimo e per questo prima ho citato Chopin perché anche lui, no? Appunto anche i romantici lo fanno regolarmente, no? Quindi sentiamo l'esempio che tu hai scelto di far sentire. Allora, chi prende? Questo è un altro brano che però non c'entra, quindi... Un altro ritmo. No, arriva nella riproposizione di questo tema, che siamo i tre quarti, per abbellimento modernmente queste terzine di cui parlavi al basso, quindi invece che fare... Per abbellimento fa... Quindi 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, quindi per abbellimento. Per abbellire ancora di più il tema, invece che ripare... Lo arricchisce un po' facendo... Allora, questo è il due, c'è una mazzetta da bambino, unbe, unbe, unbe. Sotto però abbiamo il tre, quindi ecco il tre più i due di cui si parlano. Proviamo. Adesso lo esempio tutto dopo questa vivisezione. Tutto faccio l'esempio. Dicevamo Mozart sicuramente era un compositore che, come dicevo, non ci saremmo aspettati a fare queste cose, però avete visto che ho fatto l'esempio dal Don Giovanni, questa invece è una delle sonate per piano e se ne potrebbero trovare tantissimi perché effettivamente dicevo, questi sono trucchi o trucchetti che i musicisti usano regolarmente. Magari possiamo passare a un moderno, l'ho citato prima Philip Glast, appunto. Glast, tra l'altro, è uno che la matematica non soltanto l'ha studiata ma continua ad amarla, non solo la matematica, ma più in generale la scienza, chi di voi lo conosce come musicista più che come compositore di colonne sonore di film di grande successo, avrà visto, ora sentito che alcune delle sue opere hanno dei riferimenti scientifici estremamente diretti, uno si chiama Einstein on the beach, dove il riferimento è Einstein ovviamente, non meno la beach, e recentemente, più recentemente ne ha scritta una opera molto interessante che in realtà è su Galileo e ci sono addirittura messi in scena gli esperimenti che Galileo faceva, gli famosi esperimenti col piano inclinato, con le palline che cadevano, col fatto che si doveva in qualche modo misurare il tempo e qui ovviamente nella musica siamo a misurarlo e abbatterlo per professione, e lui lo faceva Galileo attraverso il porso perché ovviamente non c'erano gli orologi, per poter fare gli orologi che non sono arrivati per miracolo su questa terra, bensì per pianificazione, ci è voluto ovviamente lo studio prima del pendolo, poi gli studi di Eugens un po' dopo, e poi alla fine ovviamente sono arrivati gli orologi, ma gli inizi non c'erano, e quindi in qualche modo bisognava battere così. Ma dicevo, Glass appunto oltre a fare queste opere di natura scientifica ha scritto un sacco di pezzi di natura musicale, purtroppo il festival di matematica, qualcuno di voi forse c'è stato quando lo facevamo, abbiamo fatto tre volte a Roma, è finito, anche per il cambiamento di guardia al Campidoglio che è passato da Veltroni che di queste cose si interessava, ad Aleman che si interessava invece di altro, ed è un peccato perché nel quarto festival che non c'è stato, quello che è stato soltanto pianificato, ci sarebbe stato un concerto per l'appunto di Philip Glass nel quale sarebbero suonate le musiche matematiche che lui aveva scritto, e lui mi raccontava addirittura di come c'era la matematica anche da un punto di vista visivo, cioè alcuni degli strumentisti per esempio in alcune di queste composizioni che sono un po' quelle del primo Glass, quello che tutti conoscono è un po' il Glass di oggi, quindi molto anche più arricchiabile, in qualche modo anche più commerciale forse, ma il primo Glass era un Glass molto rigoroso dal punto di vista di scrittura, scritturale, e in particolare appunto usavano tutte queste tecniche matematiche, dicevo alcune di queste composizioni avevano i suonatori, diciamo così, gli esecutori che si dovevano muovere sul palcoscenico secondo figure geometriche, quindi alcuni si muovevano secondo triangoli, alcuni secondo quadrati, l'auditorio si metteva le mani nei capelli, quindi credo che da questo punto di vista, forse il fatto che non si sia fatto quel concerto sia stato qualcosa di positivo. Ma sentiamo allora qualche cosa, qualche composizione di Glass che è riferita proprio a questa poliritmia che nel caso suo è diventato semplicemente un tessuto che quasi lo caratterizza. La musica di Glass, per chi non avesse musica e nelle orecchie, ecco, a un certo punto si accorge subito di che è quello. Ed è già cinema. Certo. Certo. Sì, è molto connotato stilisticamente. Ha inventato uno stile molto poi copiato e ha fatto scuola, diciamo, nella musica per il cinema, ma gli va riconosciuta una sua originalità. effettivamente l'esempio che faccio, che eseguo è Mad Rush e fa parte appunto del secondo Glass, mentre quello prima, più minimale e ricchissimo di giochi speculativi, un po' più ruvido per il nostro ascolto sarebbe stato, ma con giochi di sovrapposizione, assolutamente che poco concedono all'orecchio e hanno veramente una matrice numerica e matematica. Adesso ascoltiamo appunto questo, faccio un estratto di questo pezzo perché dureranno 10 minuti e dureranno 4. Lo interrompo comunque in un punto dove ci sarebbe un ritornello, per cui non viene troppo distorto la volontà del compositore. Quello che abbiamo sentito prima in Mozart, il principio di cui parlavi della sovrapposizione poliritmica di una duina su una tertina, quindi due notti su tre, che in Mozart, l'abbiamo appena sentito, fa parte di quattro battute, è giusto un abbellimento del tema, un arricchimento della melodia, un piccolo divertimento, un'esperienza di variazione motivato da esigenze espressive, in Glass invece diventa la melodia, cioè diventa il primo piano, non è quindi un'esigenza di abbellimento, di ornamentale, ma diventa la struttura in sé proprio del brano. Quindi la nostra percezione è lo stesso materiale musicale nella nostra percezione, sulla nostra percezione il suono in maniera molto diversa, appartiene a quella che si dice musica minimale, e dove appunto è un esperimento che facciamo, se la musica di Mozart si provoca variazione, quindi è proprio fondata sulla continua variazione del materiale, il minimalismo, come dice la parola, è fondato su invece una reiterazione del materiale sempre uguale, quindi il materiale di cui abbiamo parlato era lo stesso, ma vi vediamo che poi viene applicato in maniera diversa musicalmente. e quindi Grazie a tutti. 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 e a tutti. Grazie 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 a tutti.